Giuseppe Scaramuccia nasce a Lodi il 20 aprile 1847. Tipografo socialista inizia l'attività sindacale nella Federazione del Libro. Nel 1899 diventa segretario della Camera del Lavoro di Milano. Durante la sua segreteria la Camera del Lavoro rafforza il suo ruolo di guida dei lavoratori e migra negli Stati Uniti a seguito del fallimento della sua tipografia. Muore a New York nel 1929.